Un trenino. Una trottola. Pronto? Come? Anche quest'anno non devo portare i regali. Ah, per fare in modo che i bambini possano andare a scuola. Molto bene. Quest'anno il gruppo del Conca destina le risorse delle strene natalizie alla costruzione di una scuola per i bambini del Malawi. Questo sogno nel 2014 diventerà realtà. Grazie per aver condiviso con noi questo grande progetto. Buon Natale.